allora domenica mattina in ospedale a shanghai facciamo questo test vediamo quanto tempo abbiamo qui abbiamo il sistema vediamo se riesco a farlo allora mi ha letto la carta una serie di operazioni confermo prima di battere il record dei minuti telefono che lo guardate tanto non è mio ecco vado a scannerizzare per pagare sconfigo anche la riflessione della luce 60 renin b quindi circa 9 euro per pagare questo test fatto e adesso lo vado a fare vediamo dove ho anche saltato una fila va bene siciliano abbiamo pagato 10 euro adesso più oggi di poca gente ma anche poco servizio c'è una sola persona che fa sia verifiche pagamenti che i test insomma roba di pochi minuti questo è il test che dobbiamo fare ovviamente è obbligatorio per me solo perché viaggio da provincia a provincia quindi lascio shanghai ogni settimana per andare in giro e preparare le unioni ed è questo l'unico diciamo obbligo una volta alla settimana o comunque ogni volta che si lascia la la città bisogna 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 farlo niente di particolare ecco fatto con il mio ok fatto quindi in pochi minuti tutto a posto il naso è qualche ma è questo un po l'efficienza anche domenica mattina ciao grazie 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 grazie